Mr. Johnson, il suo elisir. Grazie, Miss Tiffany. Mr. Johnson, dimmi Archibald. Il Tamigi è in piena. Archibald, oggi è il mio giorno di riposo. Gradirei non essere disturbato ulteriormente. Molto bene, Mr. Johnson. Sì, cara. Sì, mia cara. Mr. Johnson? Sì, aspetta. Dimmi Archibald. Il Tamigi è straripato e rischia di allagare tutta la città. Cosa facciamo, Mr. Johnson? Archibald, te l'ho già detto. Oggi non ci sono per nessuno. Molto bene, Mr. Johnson. Sì, mia cara. Sì, mia cara. Mr. Johnson? Dimmi Archibald. Il Tamigi ha allagato tutta la città ed è alle porte del castello. Archibald, quando è il mio giorno di riposo, non do confidenza a nessuno e non ricevo nessuno. Non voglio ripetertelo più. Va bene? Ma, Mr. Johnson, cosa facciamo? Non facciamo niente. Oggi è il mio giorno di riposo. Molto bene, Mr. Johnson. Mr. Johnson? Archibald, che cosa c'è? Signore, il Tamigi.